Inaugurato nel pomeriggio a Sanremo il MOAC, la mostra a mercato dell'artigianato, 250 espositori, edizione annunciata all'insegna della multiculturalità con due aree principali, la zona Himalaya dove sarà possibile avvicinarsi alla cultura tibetana attraverso l'artigianato, le tipicità alimentari e gli oggetti antichi, l'altra curiosità, l'area dedicata alle atmosfere marocchine con tende berbere, arredi e tessuti. L'ingresso alla fiera è gratuito.